ciao dalla tela di ross a tutti tutta la gente di youtube oggi vi rappresento un nuovo disegno che rappresenta il mondiale di calcio ovviamente infatti disegno un bambino del Brasile che vive nelle favelas ma che ovviamente ama tanto giocare a calcio perché li amano il gioco del calcio il che rimane tanto stupito e nell'ammirare appunto i giocatori i calciatori il bambino nel diciamo potrebbe diciamo questi sono i pensieri di quel bambino del bambino che vede il giocatore di calcio e che naturalmente li ammira ma che lui vede dal suo punto di vista e vive la miseria del suo popolo il bambino pensa sono nato nelle favelas e conosco solo le favelas amo correre dietro a un pallone con i miei amici giochiamo sempre a pallone ma la nostra miseria non ci fa sognare troppo alto coloriamo le nostre case di mille tinte perché ci fa convivere in allegria e ci fa credere di vivere in un angolo del paradiso questi sono i pensieri potrebbero essere i pensieri di un bambino delle favelas che comunque rimane sempre felice e allegro nonostante il luogo dove lui vive nel convivere appunto il gioco del calcio e la fortuna anche di viverlo nel suo paese nel Brasile con la speranza che vi possa piacere questo disegno io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima alla prossimo diciamo dipinto grazie e ciao a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti